Leonardo, è stata comunque una grande partita, è mancato quel pizzico in più per riuscire a portare a casa la Coppa più grande, ma i ragazzi ce l'hanno messa tutti. Sì, il calcio di giugno ovviamente va preso così come viene, peccato veramente perché abbiamo fatto un'ottima annata e questa poteva essere la ciliegina sulla torta. Sì, effettivamente siamo andati in vantaggio per due volte, ma poco dopo ci hanno sempre recuperato e abbiamo concesso alcuni errori difensivi che non sono nelle nostre caratteristiche. Probabilmente il gol arrivava nella prima frazione di gioco? Probabilmente poteva essere chiuso a nostro favore, però hanno fatto una grande parata al loro portiere e poi siamo andati avanti e hanno fatto con loro. Ma il calcio è questo, faccio complimenti a tutti i miei ragazzi comunque perché fino all'ultimo si sono impegnati e ce l'hanno messo a frutta. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.